Mi prego di salvare l'agenzia storico della punizione S96 5 5 5 3 ore 10 proveniente da Vicenza e diretto 21 ai marito ordinario 1. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianta. Il treno regionale 16 1 6 9 di Trenitalia delle ore 10 e 22 proveniente da Vicenza. Il treno regionale 16 8 2 8 di Trenitalia proveniente da Venezia e l'Andalucina delle ore 9.56 è in arrivo ordinario 5. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianta. Il treno regionale 16 8 2 8 di Trenitalia proveniente da Venezia e l'Andalucina delle ore 9.56 è in arrivo ordinario 5. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianta. Il treno regionale 16 8 7 8 di Trenitalia proveniente da Venezia e l'Andalucina delle ore 9 e 22.00 è in arrivo ordinario 5.00. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianta. Il treno regionale 16 8 di Trenitalia proveniente da Venezia e l'Andalucina delle ore 10.00 è in arrivo ordinario 6.00. Il treno regionale 16 8 2 6 7 di Trenitalia proveniente da Venezia e l'Andalucina delle ore 10.00 è in arrivo ordinario 6.00. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianta. Fermai tutte le stazioni. Il treno regionale 17 2 9 0 di Trenitalia delle ore 11.35 per sempre è in parletta dal linea 1. Fermai tutte le stazioni. Il treno regionale 17 3 1 0. Trenitalia delle ore 19.35 per sempre è in parletta dal linea 1.00 è in parletta dal linea 1.00 è in arrivo ordinario 6.00. Il treno regionale veloce 34 50 di Trenitalia proveniente da Trieste Centrale e diretto a Venezia e l'Andalucina delle ore 11.27 è in arrivo ordinario 6.00. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianta. Ferma a Venezia e l'Andalucina delle ore 11.00 è in parletta dal linea 1.00 è in parletta dal linea 1.00. Il treno regionale veloce 36 03 di Trenitalia proveniente da Udde e diretto a Venezia e l'Andalucina delle ore 10.27 è in parletta dal linea 1.00. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianta. Ferma a Venezia e l'Andalucina delle ore 11.00 è in parletta dal linea 1.00 è in parletta dal linea 1.00. Allontanarsi dalla linea gianta. Il treno regionale veloce 355 proveniente da Venezia e l'Andalucina delle ore 11.00 è in parletta dal linea 1.00. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianta. Il treno regionale veloce 36 05 di Trenitalia e l'Andalucina delle ore 11.00 è in parletta dal linea 1.00. Allontanarsi dalla linea gianta. Il treno regionale veloce 5.00 è in parletta dal linea 1.00 è in parletta dal linea 1.00. E' un parletta dal linea 2.00 è in parletta dal linea 1.00 è in parletta dal luce del treno regionale. Grazie a tutti.